Sono oltre 500 i piemontesi che hanno inviato la propria candidatura alla Garante Regionale dell'Infanzia e Adolescenza con lo scopo di diventare tutore volontario per minori stranieri non accompagnati, una figura che è stata introdotta dalla legge 47 del 7 aprile 2017. Il 4 novembre inizia il corso di formazione per i primi 100 candidati a tutori volontari, le elezioni si terranno al campus Einaudi di Torino e termineranno il 16 dicembre. Il corso presentato durante una conferenza stampa a Palazzo Lascaris è frutto di una convenzione firmata dalla Garante Regionale dell'Infanzia e Adolescenza Rita Turino dalla Regione Piemonte, dall'Anci Piemonte e dall'Università di Torino. Siamo molto soddisfatti come Consiglio regionale con le sue articolazioni, il Comitato dei Diritti Umani e la Garante dell'Infanzia che assieme all'Anci, alle fondazioni, all'Università abbiamo quindi promosso questa formazione, questi corsi e diceva bene non solo da un punto di vista giuridico ma una sorta diciamo di tutela umana, di attenzione nei confronti dei minori non accompagnati che nel nostro paese, Italia, è una delle piaghe più importanti, è importante per me oggi sottolineare che la Regione, il Comitato dei Diritti Umani, chiederà una proposta, una modifica legislativa perché quest'anno è stata istituita la figura della garante dell'infanzia e quindi l'anno prossimo anche noi poter dare un contributo finalizzato a soddisfare le richieste perché i dati che sono stati forniti oggi sono dati straordinari, c'è una città, quindi una regione viva dove c'è la cittadinanza attiva che vive nelle persone, quindi emerge la parte sana della comunità, sono arrivate 500 domande, non è stato possibile selezionare tutte le domande ma su un numero di 180, poi alla fine sono stati selezionati 100 e di questi 100 si inizierà ad avviare il percorso. Questa non vuole essere una fase ma un percorso di accompagnamento, una società civile che possa essere considerata tale non può lasciare indietro un minore non accompagnato, cioè solo al mondo. Noi non dobbiamo lasciare nessuna persona nel mondo solo al mondo. Sta per partire il primo corso per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, un'iniziativa che ha riscosso un buon grado di adesione. Sì, direi che è un'iniziativa che ha avuto un successo insperato, direi, rispetto al numero di domande che ci sono pervenute, più di 500 ma continuano ad arrivare perché ricordo che il bando è aperto, quindi senza una scadenza, quindi chiunque può ancora far arrivare la sua adesione. Si tratta per un terzo di uomini e per due terzi di donne, prevalentemente in una fascia di età inclusa tra i 40 e i 60 anni. Noi avevamo due vincoli che erano quelli dei 25 anni di età compiuti e quello del diploma di scuola media superiore. Persone, direi però, al di là del titolo di studio, estremamente motivate. Si inizia questo percorso di formazione avendo in aula 100, i primi 100 di questi 180 che noi siamo riusciti a incontrare. Il prossimo percorso di formazione partirà già previsto, già finanziato entro i primi di febbraio del prossimo anno e poi, come abbiamo sentito dal presidente Laus, finalmente siamo tranquilli, avremo i finanziamenti anche per i prossimi tre corsi di formazione.